Esonero di Simone Inzaghi sì o esonero no Inzaghi out o Inzaghi in il doppio K.O. tra Derby e Bayern Monaco ha acceso il dibattito e messo in discussione la posizione di Simone Inzaghi che come potete vedere anche dai commenti sotto i nostri video durante le nostre live nei nostri podcast viene da molti tifosi e non solo indicato come uno dei principali responsabili di questa partenza difficoltosa da parte dell'Inter e pertanto la richiesta di esonero comincia a circolare in maniera più piuttosto discussa tra diffusa tra diversi tifosi nerazzurri inutile dire che ci siamo abituati ovviamente io a memoria non ricordo un singolo allenatore dell'Inter mai messo in discussione durante la sua avventura nerazzurra e ovviamente in questo poi ci si infilano anche i media i quotidiani che nella polemica nelle difficoltà dell'Inter ovviamente ci sguazzano colpi di visualizzazione e di click però il momento chiaramente con tre sconfitte in sei partite giocate ma soprattutto per come sono maturate queste sconfitte impone inevitabilmente delle riflessioni che oggi voglio fare insieme a voi quindi partiremo dalle notizie soprattutto di quello che è successo nelle scorse ore in maniera molto molto veloce ma poi vi anticipo che quello di oggi è un contenuto in cui voglio portarvi soprattutto la mia opinione quindi anche molto personale questo episodio di oggi diciamo poi approfondiremo all'interno della live delle diciannove e trenta quindi mi raccomando iscrivetevi subito al nostro canale se non lo avete ancora fatto così non vi perdete la nostra live e tutti i contenuti che vi portiamo ogni giorno partiamo dalle notizie però come vi dicevo che cosa è successo subito dopo la gara contro il Bayern Monaco c'è stato un importante confronto da piano gentile ha partecipato tutta la dirigenza lo staff tecnico ovviamente anche la squadra sono stati messi sul tavolo i vari problemi che sono emersi in questa queste prime giornate hanno parlato i dirigenti soprattutto in particolar modo ma anche alcuni giocatori in particolar modo quelli più esperti che possiamo dire hanno fatto anche un po' una sorta di mea culpa secondo le ricostruzioni che sono circolate in queste ore hanno diciamo parlato soprattutto di apertamente anche delle responsabilità che gli stessi calciatori devono assumersi che devono fare di più senza troppo nervosismo sintetizziamo di molto così il lungo discorso che c'è stato ha parlato ovviamente anche il mister il suo messaggio diciamo che ha ruotato soprattutto attorno a due temi il primo quello che nessuno è intoccabile quindi tutti in discussione per tenere tutti sul pezzo e poi ovviamente ha chiesto una forte reazione alla squadra all'interno di questo confronto che comunque è stato definito molto costruttivo e sembra che tutto l'ambiente abbia preso bene questo confronto poi ovviamente aspettiamo il campo per poterlo giudicare si è parlato però soprattutto dell'aspetto mentale e sul tema mentale tra poco voglio dirvi una cosa importante dal mio punto di vista nel tardo pomeriggio però poi dopo questo confronto ai microfoni di sky ha parlato la di eh nerazzurro l'amministratore delegato Beppe Marotta dopo anche un confronto con il presidente Zange nell'intervista di Marotta secondo me non c'è granché da sottolineare nel senso che è un'intervista eh che posso definire molto mediatica passatemi questo termine che cosa intendo cioè ehm un'intervista in cui Marotta ha voluto lanciare un messaggio soprattutto all'esterno secondo me gettare un po' di acqua sul fuoco in generale soprattutto per i tifosi e per tutto quello che c'è attorno al mondo inter ribadendo poi anche sottolineando spesso la parola fiducia nei confronti del mister e della rosa di questa squadra chiedendo poi anche una eh reazione immediata che è quello che ci aspettiamo tutti quindi un'intervista normale che però secondo me eh assume un significato simbolico molto importante perché che cosa intende con questo eh entriamo poi nella mia opinione sul tema esonero il faccia a faccia da piano gentile quindi questo confronto da piano tra dirigenza staff squadra eccetera non è un qualcosa di nuovo avviene spesso e mh questa volta magari diciamo i toni sono stati anche un po' più duri visto appunto il momento delicato eh che si sta attraversando la situazione oggi all'inter sicuramente non è semplice la tensione ovviamente si avverte anche perché ci si gioca molto alla luce anche di avversari più competitive secondo me eh quest'anno allo stesso tempo però non credo che sia una situazione almeno dal mio punto di vista così grave così irrimediabile ed infuocata da richiedere un intervento televisivo in più da parte di Marotta che consideriamo parla di fatto ogni settimana ad ogni partita quindi un intervento in più non lo so a me non sembrava così grave ecco la situazione nonostante comunque dicevamo due sconfitte preoccupanti soprattutto eh nell'atteggiamento per me quindi questo ulteriore intervento così programmato ha un doppio effetto probabilmente da un lato è come dicevo un messaggio per placare un po' il tifo e forse soprattutto per giocare d'anticipo rispetto ai giornali giornali che potevano e hanno comunque fatto delle speculazioni sul tema esonero eccetera eccetera piazzando quell'intervista prima ovviamente che i quotidiani potessero fare molto speculazioni un po' la piazza secondo me la si placa dall'altro lato però questa intervista fissa secondo me anche un paletto molto importante per la squadra e soprattutto per Simone Inzaghi perché che cosa intendo? Intendo che Inzaghi è stato ulteriormente responsabilizzato proprio tramite queste parole e soprattutto a lui in questo modo viene chiesta una svolta immediata. io non posso pensare che eh da qui a due settimane Marotta in caso di altri risultati non positivi possa giocarsi ancora una volta la carta dell'intervista pubblica per cui è una mossa forte secondo me nonostante delle dichiarazioni appunto non clamorosamente non passeranno alla storia ecco sicuramente questa intervista però è una mossa molto forte in un momento in cui la stagione secondo me è ancora in una fase in cui pensare alla rivoluzione sarebbe un errore ma impone sicuramente una reazione forte per questo motivo l'ho scritto anche nella newsletter che vi ho che vi abbiamo inviato poche ore fa per tutti gli iscritti alla newsletter di Passione Inter eh oggi per me parlare delle sonore di Inzaghi non ha senso per un paio di motivi su tutti il primo è che la stagione non è compromessa e per me ci sono sicuramente in questa squadra le qualità umane e tecniche per imporre un cambio di marcia immediato eh serve una scintilla di testa soprattutto qui mi riallaccio quindi al discorso mentale che vi avevo anticipato prima perché eh ne sto parlando spesso in questi giorni eh io non posso accettare che ci sia un problema di condizione fisica in una stagione che vede l'Inter scendere in campo per venti partite dal tredici agosto al tredici novembre avere una condizione fisica errata in ritardo alla sesta partita vuol dire di aver toppato clamorosamente la preparazione perché oltre un quarto delle partite che dovrai affrontare fino al mondiale l'hai affrontate in una condizione precaria sarebbe un errore gravissimo da parte di tutti eh ma d'altronde anzi in aggiunta se guardiamo i dati la condizione fisica il problema della condizione fisica viene anche meno perché l'Inter nelle ultime due sfide ha corso più del Milan e ha corso un po' più del Bayern in campionato l'Inter è la terza squadra per chilometri percorsi in tutta eh la serie A quindi la gamba c'è i chilometri vengono percorsi probabilmente si corre male o comunque eh il problema è eh una questione appunto più di testa di come si corre e di con quanta fame con quanta cattiveria si corre probabilmente c'è da questo punto di vista quindi secondo me secondo qualcuno lo ha scritto anche nei commenti mi pare qualche similitudine con il periodo dei sette punti conquistati in sette partite nella scorsa stagione che fu forse il periodo decisivo per eh eh il nostro secondo posto in campionato da quel periodo poi ci sbloccammo grazie alla scintilla scattata nella vittoria contro la Juventus ecco oggi quindi viste le similitudini serve una scintilla simile per cui le parole di Marotta e il vertice da piano gentile sono importanti ma non bastano servono eh dei risultati convincenti in campo fin da subito il secondo motivo per cui non voglio parlare oggi di Esonaro Dinzaghi è anche per un discorso progettuale perché intanto io eh benedico eh o comunque spero da tanto tempo di poter impostare un progetto con un allenatore di poter fare qualcosa di più che un una barra eh due stagioni allo stesso tempo però ancora una volta mi farebbe male trovarci nuovamente di fronte ad un pessimo errore progettuale di gestione con un allenatore a cui hai rinnovato il contratto prolungandolo e aumentando anche l'ingaggio poche settimane fa pochi mesi fa e poi ti ritrovi ad esonerarlo poco dopo. era successo anche con Spalletti prolungamento e poi la scelta di andare su Conte eh si ripeterebbe una ora eh questo episodio questo scenario in uno in una situazione ancora peggiore perché l'Inter oggi ha ancora meno spazio al livello di bilancio ancora più difficoltà dal punto di vista economico quindi difficilmente ci si potrebbe permettere un allenatore migliore di Inzaghi in queste condizioni qui e se non puoi prenderne uno migliore la storia recente almeno secondo me insegna che oltre ad un immediato effetto scossa che potrebbe avere un nuovo allenatore non si va molto lontano a livello progettuale eccetera eccetera quindi io oggi dico no in questo momento all'era sono di Simone Inzaghi allo stesso tempo dico il tempo però scorre molto velocemente e la deadline secondo me è soprattutto quella della sosta per il mondiale in cui poi eventualmente ci sarebbe un mese e mezzo per lavorare con un eventuale nuovo eh allenatore fermo restando però che prima della sosta di fine settembre ci deve essere una svolta quindi la deadline principale è quella di metà novembre ma subito ci aspettiamo una risposta importante molti eh mi dicono che anche nel club ne abbiamo parlato ed è un tema che sta facendo molto discutere quindi vi ricordo passioni inter punto club se volete approfondire ulteriormente volete interagire con noi ventiquattro ore su ventiquattro su questi temi eh si diceva è giusto però rimandare le valutazioni al termine del campionato sarebbe più giusto giudicare poi i cavalli all'arrivo diciamo così ed è un discorso che in parte eh condivido anche per me sarebbe sempre meglio fare le valutazioni a fine stagione non in corsa perché in corsa io ci vedo più difficoltà che eh opportunità nel cambiare però c'è un fattore determinante in questa deadline che fisso anch'io e nei vari ragionamenti che sto facendo quest'Inter oggi io non credo che possa permettersi a livello progettuale ed economico di restare fuori dalle prime quattro in campionato e quindi fuori dalla prossima Champions League quindi se a metà novembre la situazione sarà non del tutto compromessa ma comunque con evidenti scricchioli e dei problemi di gestione eccetera eccetera a malincuore e con grandissima delusione però anch'io sarei eh probabilmente per il cambio in panchina poi adesso prevedere il futuro eh bisognerà sicuramente valutare però quest'Inter per me non può permettersi di rimanere fuori dalle prime quattro eh pena diciamo un ridimensionamento che sarebbe abbastanza eh inevitabile credo vista la situazione economica attuale per quella data però vediamo ci aspettiamo nel frattempo come dicevo un inzaghi in grado di dimostrare fin da subito fin da ora eh di avere la squadra tutta dalla sua parte di aver compreso e corretto gli errori eh commessi l'anno scorso e anche un miglioramento nella lettura delle partite cosa che più di tutte secondo me sta incrinando la sua eh posizione dal mio punto di vista e da quello di molti tifosi fermo restando che eh se inzaghi è il primo responsabile nell'imporre l'atteggiamento alla squadra nel leggere i cambi e i momenti eh della partita nella gestione del turnover altra cosa che al momento è sicuramente discutibile visto che l'Inter ha anche alcuni giocatori giovani affamati che hanno fatto intravedere cose interessanti che potrebbero avere più spazio da Aslani a Bellanova oltre e soprattutto eh ad Onana a maggior ragione se quelli che giocano al loro posto da Dunfris a Barella eccetera eccetera lo fanno nel modo in cui abbiamo visto finora eh allo stesso tempo però dicevo secondo me vanno date anche le responsabilità ai calciatori e vanno date in maniera importante perché Brozovic, Skrini, Arbastoni, Dunfris, Barella, De Frai ma potrei continuare all'infinito io fatico sinceramente a salvare qualcuno più di altri oggi in questo avvio di stagione e fatico a credere che questi sono i calciatori che in estate tutti compatti abbiamo deciso abbiamo detto vanno blindati a tutti i costi quindi è giusto responsabilizzare in Zaghi assolutamente sì è l'allenatore fa parte del ruolo dell'allenatore è giusto mettergli pressione anche soprattutto dopo un periodo in cui forse l'anno scorso sono un po' troppo cattivo ma l'anno scorso viste anche le difficoltà economiche si sarebbe accettato quasi tutto posso dire così ma è giusto ora aspettarsi una crescita e mettergli ulteriormente pressione però anche i calciatori secondo me va data la giusta responsabilità anche da loro ci aspettiamo molto questa è la mia opinione fatemi sapere se siete d'accordo che cosa ne pensate se siete d'accordo con me oppure no magari so che molti di voi pensano che in Zaghi debba essere esonerato subito ditemi un po' la vostra vi aspetto nei commenti vi aspetto nel club di Passione Inter ovviamente per approfondire prima di salutarvi però vi lascio con un'altra analisi secondo me molto interessante a recuperare da parte del nostro Alessio Murgida che ha preso diversi spunti dalla sfida contro il Bayern Monaco per lanciare una visione ancora più completa vi consiglio di recuperarla la trovate in nella descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre su YouTube si trova proprio qui e vi basta cliccare mi raccomando